Salve, salve da Marco Calabro per conto di Alleanza Mobiliaria. Oggi sto rispondendo alla domanda perché il materasso fa la muffa? Beh, fa la muffa perché evidentemente non c'è circolazione d'aria. Questo avviene normalmente della mancanza di circolazione d'aria o con i materassi in lattice, in linea di massima, o con i materassi che hanno una boxatura, cioè una scatola di spugne, quindi all'interno di questo box non sta circolando l'aria, ci stanno box che fanno anche circolare l'aria. Oppure anche i materassi in memory, con memory normale, perché il memory normale viene schiumato a caldo, le bollicine si chiudono nell'ebollizione e non fa passare l'aria, produce calore e accumula umidità. Qual è l'alternativa? L'alternativa, sinceramente migliore oggi sul mercato, è il memory marine, cioè delle schiume memory ad alta traspirabilità che non accumulano umidità, si sente fresco e circola l'aria.